Ciao a tutti e benvenuti nella mia rubrica McShake Abbiamo bisogno di un po' di leggerezza visto i giorni che stiamo passando chiusi in casa E proprio qualche tempo fa mi è venuta un'idea in mente Ma gli amanti ora come faranno ad incontrarsi? Come faranno a baciarsi, a toccarsi? Non potranno e soprattutto dovranno stare a debita distanza Per esempio pensiamo agli amanti dello Star System Albano e Romina Power Loro che si baciavano tra i campi in fiore e il sole che li illuminava Ora non potranno più Anche se piccolo McShake si sono sposati di recente a Mosca Oppure Madonna e Sean Penn Che in una recente intervista hanno detto di amarsi ancora Nonostante le botte in testa Oppure Brad Pitt e Jennifer Aniston No, loro non c'entrano in tutto ciò Ma se pensiamo agli amanti storici del passato Come Renzo e Lucia Loro che sono stati separati solo perché volevano sposarsi Dopotutto domani è un altro giorno Prima di salutarci vorrei chiedervi a voi del popolo Che personaggi dei Promessi Sposi vorreste essere Appena finirà il nostro momento McShake Potrete vedere scorrere l'immagine dei personaggi dei Promessi Sposi Con le loro caratteristiche E se vi va potete scrivere proprio qui un commento Scrivete mi raccomando Ciao